Il quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu rivelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi domandò, bruscamente e senza preamboli, come se si trattasse del frutto di una lunga e silenziosa meditazione. Una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori. Una pecora mangia tutto ciò che trova. Anche i fiori con le spine. Sì, anche i fiori con le spine. Allora, a che servono le spine? Non lo sapevo. In quel momento ero assorbito dal tentativo di svitare un bullone troppo stretto del motore. Ero preoccupato perché il guasto iniziava a sembrarmi molto grave e l'acqua da bere che stava finendo mi faceva temere il peggio. A che servono le spine? Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda una volta che l'aveva fatta. Io ero irritato dal mio bullone e buttai lì. Le spine non servono a nulla e pura crudeltà da parte dei fiori. Ah, ma dopo aver taciuto per un po', reagì con un certo risentimento. Non ti credo, i fiori sono fragili, sono ingenui, si fanno coraggio come possono, si credono terribili con le loro spine. Non replicai nulla. In quel momento mi dicevo, se questo bullone resiste ancora lo farò saltare a colpi di martello. Il piccolo principe mi distrasse ancora una volta dalle mie considerazioni. E tu credi che i fiori... Ma no, ma no, io non credo nulla, l'ho detto tanto per dire. Mi occupo di cose serie, io. Mi guardò stupefatto. Di cose serie. Mi vedeva con il martello in mano e le dita sporche di maorchia, chino su un oggetto che doveva sembrargli molto brutto. Parli come gli adulti. Questo mi fece un po' vergognare. Implacabile lui continuò. Tu confondi tutto, mischi tutto. Era veramente molto irritato. Scuoteva al vento i suoi capelli dorati. Conosco un pianeta dove abita un signore sempre rosso di rabbia. Non ha mai annusato un fiore. Non ha mai guardato una stella. Non ha mai amato nessuno. Non ha mai fatto nient'altro che delle addizioni. E tutto il giorno ripete come te. Io sono un uomo serio. Io sono un uomo serio. E questo lo fa gonfiare d'orgoglio. Ma non è un uomo. È un fungo. Che cos'è? Un fungo. Adesso il piccolo principe era diventato tutto pallido per la collera. Da milioni di anni i fiori producono le spine. Ciò nonostante da milioni di anni le pecore mangiano i fiori. E non è serio cercare di capire perché i fiori facciano tanta fatica a produrre delle spine che non servono a nulla? Non è importante la guerra delle pecore e dei fiori. Non è più serio e importante rispetto alle addizioni di un ommone paonazzo. E se io conoscessi un fiore unico al mondo che non esiste da nessun'altra parte che sul mio pianeta e che una pecora può distruggere in un attimo. Così, una mattina, senza rendersi conto di quello che fa, non sarebbe importante. Arrossì, poi riprese. Se qualcuno ama un fiore di cui non esiste che un solo esemplare tra milioni e milioni di stelle. Per essere felice basta che le guardi e si dica il mio fiore è lì, da qualche parte. Ma se la pecora mangia il fiore, per lui è come se da un momento all'altro tutte le stelle si spegnessero. E questo non è importante. Non riuscì ad aggiungere altro. All'improvviso scoppiò i singhiozzi. Era scesa la notte. Avevo messo via gli attrezzi. Non mi importava nulla del martello, del bullone, della sete e della morte. Su una stella, o meglio su un pianeta, il mio pianeta, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare. Lo presi tra le braccia e lo cullai. Gli dicevo Il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora. Disegnerò un'armatura per il tuo fiore. Io non sapevo bene cosa dire. Mi sentivo mal destro. Non sapevo come arrivare fino a lui. In che luogo raggiungerlo. È talmente misterioso il paese delle lacrime.